ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutto tech per quelli che si sono collegati per la prima volta al nostro canale vi ricordiamo di iscrivervi al canale lasciare un bel mi piace ci fa sempre piacere ci supporta e ci fa crescere all'interno di youtube e cosa importante attivare la campanella così da essere avvertiti ogni quale volta uscirà un nuovo video ma ora andiamo a vedere quello che è il protagonista di questo video il protagonista è fire tv stick esiste un modo per poter rinominare la nostra fire stick di casa se per caso soprattutto mi rivolgo a quelli che ne hanno più di una può capitare a volte di averle due tre o anche di più non lo so e c'è magari la necessità di poter personalizzare il nome di quella fire stick perché magari durante una ricerca mi servirà trovare direttamente quella ora andiamo a vedere il metodo la prima cosa da fare andare nelle impostazioni della nostra fire stick spostandoci poi sulla mia fire stick compariranno le informazioni inerenti la chiavetta a questo punto segnatevi il nome attuale che viene riportato sullo schermo perché sarà molto importante per le prossime procedure ci troviamo nella home page della nostra fire tv stick ci spostiamo sulle impostazioni andiamo giù la mia fire tv informazioni fire tv stick ecco lì in alto vedete in questo caso c'è il nome di mia moglie tania di fire tv stick se avessi avuto più dispositivi e questo era quello che mi interessava avrei dovuto segnare quel nome lì in alto questo quindi se voi avete più fire stick fate questa operazione sulla fire stick alla quale volete cambiare il nome e segnatevi il nome fatto questo poi ci spostiamo sul cellulare o sul pc di ora vi farò vedere come farlo da cellulare ma è la medesima cosa dal computer quindi vi metto lo schermo e vediamo come fare entriamo nella app della di amazon clicchiamo sul secondo simbolo quello dell'omino il mio account poi clicchiamo contenuti e dispositivi e qui in alto troviamo contenuti dispositivo preferenze eccetera eccetera noi quello che interessa è dispositivi clicchiamo lì sopra qui ci compareranno tutti i nostri dispositivi dove c'è la voce fire tv ci clicchiamo sopra clicchiamo nuovamente sul dispositivo e poi c'è modifica cliccate lì sopra e a questo punto avete la possibilità di rinominare questa fire stick tutte le volte che volete quindi se per caso cambiate idea o magari cambia possessore la fire stick c'è la possibilità di poterla rinominare fatta questa operazione vi basterà cliccare sul tasto salva operazione semplicissima ed è la stessa identica cosa riportata sul computer entrate sempre nella vostra nel sito di amazon vi logate con tutti i dati del vostro account dopodiché nella voce in alto dove c'è il menu cliccate su account e liste poi i miei dispositivi cliccate sui dispositivi vi comparirà la fire stick ci cliccate sopra e a quel punto dovete andare a vedere cosa che ho dimenticato di dirvi prima è lì l'operazione importante quando avete segnato quel famoso codice o numeri o nomi che c'erano sul televisore vi faceva vedere il nome della vostra fire stick lo andate a cliccare di sopra e da lì potete modificarlo video molto semplice e veloce per poter fare un'operazione che può essere utile per modificare un'informazione su un prodotto che abbiamo in casa e se ne abbiamo degli altri si potrebbero confondere detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo ciao ciao